1, 2, 3 Allora, questa è una residenza un po' particolare. Vedremo, sono 22 locali. È stata restaurata una quindicina di anni fa. È un edificio sotto vincolo, quindi assolutamente protetto. E' stato riportato in auge, basandosi su una documentazione notarile. E vedremo che ogni locale è diviso in ambienti. Ogni ambiente è un'epoca, dal 600 fino al periodo Umbertino. Per poter visitare la nostra residenza e poter scoprire anche il fascino di queste terre, voi potete andare sul sito www.casazuccala.it